Un momento bello di tiro, certo come poi hai detto te, dei gol che sono belli, sì, però credo che solamente essere in campo, vedendo che i miei compagni si tirano di me quando mi danno la palla, queste sono delle sensazioni belle perché vedo che piano piano sto tornando ad essere un calciatore, certo che sto cercando di essere il calciatore che ero prima e anche forse meglio, però giusto essere in campo, vedendo i miei compagni che mi hanno fiducia in campo, credo che questa è la cosa più bella.